Affitti in nero agli universitari a Palermo scattano, 23 denunce e controlli a tappeto dalla Guardia di Finanza, individuati alcuni proprietari di appartamenti nella zona universitaria che non hanno dichiarato ricavi d'affitti per 200.000 euro, stretta sulle false dichiarazioni dei redditi per ottenere l'esenzione dalle tasse universitarie. Tenta un furto in una chiesa a Partinico, arrestato un anziano di Cinesi, segnalato dal parroco, i carabinieri lo hanno pedinato e colto sul fatto, aveva rubato soldi nella casa del parroco. Vandali in azione l'ananotte, devastati gli uffici comunali di via Messina Marine a Palermo e la scuola Morvillo a Monreale. Esplode la polemica a Borgetto, niente buoni libro per le famiglie aventi diritto, la denuncia di alcuni consiglieri comunali che sollecitano l'amministrazione a reperire le somme in bilancio. Quinta notte bianca a Partinico, successo secondo commercianti e comune, il commissariato di polizia ha stimato 30.000 presenze e boom di vendita negli esercizi commerciali. Lo sport calcio a Palermo attesa per il nuovo tecnico Gasperini, nominato dopo l'esonero di Sannino, è atteso per domani per dirigere il primo allenamento. Bene, ritrovati con l'informazione di TV7, un buon inizio di settimana a tutti i telespettatori. Intanto partiamo dalla cronaca come di consueto. Affitti in nero agli universitari a Palermo scattano 23 denunce, controlli a tappeto della Guardia di Finanza, individuati alcuni proprietari di appartamenti nella zona universitaria che non hanno dichiarato ricavi da affitti per 200.000 euro, stretta anche sulle false dichiarazioni del redditi per ottenere l'esenzione dalle tasse universitarie. Ne vediamo. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza a Palermo contro le truffe sul pagamento delle tasse universitarie e gli affitti in nero. Individuati 23 proprietari di immobili nelle zone circostanti dell'università che non hanno dichiarato i ricavi percepiti dalla locazione agli studenti dei loro appartamenti per circa 200.000 euro. Il caso più eclatante è quello del proprietario di un appartamento del centro storico che lo ha affittato per sei anni consecutivi a quattro studenti universitari ricavandone 30.000 euro. Nonostante il locatore avesse registrato il contratto di affitto ha però dimenticato e si fa ovviamente per dire di dichiararne i relativi introiti al fisco. Sul fronte delle legittime esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie invece dall'inizio della collaborazione sono già 38 le denunce inoltrate dai reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo all'autorità giudiziaria per i reati di truffo e falso a carico di coloro che hanno autocertificato fittizie condizioni reddituali ed economiche. L'Ateneo Palermitano adesso sulla base del protocollo con le fiamme gialle trasmetterà nei prossimi giorni come all'inizio di ogni anno accademico un ulteriore elenco di 100 nominativi di studenti neoiscritti selezionati su un ampio campione a seguito dell'individuazione di alcuni indicatori di possibile anomalia rilevanti dalle autocertificazioni presenti ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Questi controlli sono il frutto proprio della sinergia che si basa sul protocollo di intesa stipulato tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Università di Palermo nell'ottobre del 2008 e sul sistema informatico messo a punto dall'Ateneo che permette di far emergere indici di anomalia nelle autocertificazioni presentate dagli studenti in sede di iscrizione annuale all'Ateneo sulle condizioni economiche proprie e del nucleo familiare. La lista delle posizioni a rischio viene quindi comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo che effettua una serie di incroci con le banche dati a propria disposizione come l'anagrafe tributaria per confrontare i dati comunicati dagli studenti e dichiarati dai redditi. Dopo questa ulteriore attività di selezione viene avviata una serie mirata di controlli finalizzati a scoprire e denunciare le indebite percezioni di contributi statali per il diritto allo studio. Ma il protocollo tra Fiamme Gialle e l'Ateneo non si ferma a questo essendo previsto che gli elenchi comunicati alla Guardia di Finanza possono essere utilizzati dai finanzieri anche per individuare eventuali locazioni in immobili nero. A parte dagli studenti residenti fuori città che spesso sono costretti a sottostare a contratti d'affitto esorbitanti. Vandali in azione negli uffici comunali di Via Messina Marine a Palermo che ospitano il settore sociale e territoriale e alcuni uffici del settore della pubblica istruzione ad accorgersene in mattirata i dipendenti dello stesso settore nel momento in cui per l'appunto cominciava l'attività. È stato messo letteralmente tutto a suo quadro. I danni ammontano a svariate migliaia di euro e altri atti vandalici. Si sono verificati alla scuola Morvillo a Monreale. La scoperta all'apertura proprio dell'istituto. Danneggiati su pellettili sono stati anche trovati escrementi ovunque. Il deputato regionale Salvino Caputo ha chiesto al comando dei carabinieri di Monreale una vigilanza stabile nei pressi della scuola. Servono provvedimenti immediati, continua Caputo per garantire la sicurezza degli alunni e dare maggiore serenità ai genitori. Ormai l'istituto Morvillo è diventato un vero e proprio bersaglio dei vandali che continuano a prendere di mira la scuola. Intanto serve garantire una vigilanza ed una presenza stabile delle forze di polizia per evitare paure e preoccupazioni per i ragazzi e per le loro famiglie ma anche per gli insegnanti e i dipendenti dell'istituto. Tenta un furto in una chiesa a Partinico arrestato un anziano di Cinisi segnalato dal parroco. I carabinieri lo hanno pedinato e colto sul fatto. Aveva rubato soldi nella casa del sacerdote. Vediamo i particolari. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno compiuto un'altra importante operazione finalizzata alla repressione dei reati predatori rafforzati in tutto il comprensorio partinicese. Infatti hanno arrestato nella fragranza di reato Giuseppe Marabelle, 63enne, residente a Cinisi, pensionato con precedenti. In seguito alle numerose denunce fatte presso il locale comando di compagnia, nelle quali i carabinieri venivano informati dei furti che frequentemente avvenivano nelle chiese locali, i militari hanno predisposto un accurato servizio di osservazione al fine di sorprendere su fatto eventuali abili ladri. Nel corso del servizio gli investigatori infatti sono stati insospettiti dal comportamento di un uomo in età avanzata, il quale prima prendeva posto tra i banchi della chiesa San Salvatore di Partinico, poi a celebrazione iniziata si dirigeva verso il corridoio che permette l'ingresso alla sagrestia. Dopo essersi accertato di non essere stato notato e seguito da qualcuno, il Marabelle si dirigeva verso la casa canonica. Accertato di quanto accadeva, i militari hanno deciso di chiudere ogni possibilità di fuga, bloccando l'uomo. Dopo aver atteso che il presunto ladro fosse uscito dall'appartamento, i militari dell'arma lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale. Il Marabello è stato trovato in possesso di una somma di denaro asportata dall'appartamento e di strumenti atti all'effrazione, tra cui un cacciavite opportunamente modificato per l'esigenza e le chiavi della sagrestia appena trafugate. Gli investigatori, a seguito di opportuni accertamenti, hanno riscontrato che la porta dell'abitazione era stata forzata e manomessa. Il bambino si sporge dal balcone e cade giù. Il padre si lancia nel tentativo di salvarlo. Si è rischiata la tragedia a Palermo. Il piccolo di sei anni è rimasto illeso. Ora è ricoverato sotto osservazione all'ospedale dei bambini. Il padre, 41 anni, ha riportato diverse fratture ed è ricoverato al civico di Palermo. L'incidente è accaduto nella zona di via Messina Montagne. Non è ancora chiara l'esatta dinamica, ma gli investigatori sembrano avere pochissimi dubbi. Il bimbo probabilmente stava giocando in balcone e si è spinto troppo in avanti, precipitando. Fortunatamente l'abitazione si trova al primo piano e l'impatto non è stato violento. È andata peggio al padre. Il maggiore peso corporeo è reso più traumatica la caduta. Sull'indagine, sull'episodio, scusate, indaga la polizia. Colpo in gioielleria a Palermo. Immagini della videosorveglianza inchiodano due donne. Il furto da 10.000 euro messo a segno da due signore riprese dalle telecamere. Chiedono di allentare le maglie del cinturino di un orologio e poter guardare alcuni bracciali d'olo. Ma mentre il gioielliere è intento a lavorare, una di loro sfila con destrezza dal tavolo il panno con gli ori per metterlo nella borsa. La rapina, messa a segno sabato scorso in una gioielleria di via Pirandello a Palermo, è stata compiuta da due signore. Le immagini del colpo sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Ne stiamo vedendo in questo momento proprio un fotogramma. E mostrano le due donne, una sulla ventina d'anni con un berretto sulla testa e una più grande con un paio di grandi occhiali da sole a coprirle il viso, che mentre il gioielliere è chinato sul tavolo di lavoro, si guardano intorno con attenzione, provano alcuni orologi e aspettando il momento buono per entrare in azione. Nell'esercizio entrano anche altri clienti che non si accorgono di nulla. In un attimo infatti una delle due prende il panno di velluto e con attenzione lo mette dentro la borsa. Per fugare i sospetti, le due ladri aiutano persino il gioielliere a mettere via il resto dei preziosi rimasti ancora sul tavolo e dopo aver salutato escono indisturbate dal negozio, non notando però che i loro movimenti sono stati immortalati dalle telecamere a circuito chiuso del negozio. Il valore del bottino è di circa 10.000 euro. Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Giovanni Maranzano, 32 anni di Palermo, pregiudicato, si è resa autore del reato di rapina aggravata in concorso con altri due individui. Nel minino l'abitazione è di un'anziana donna di 91 anni. I tre aggressori, dopo aver minacciato la badanta e l'anziana signora, si sono fatti consegnare 1.550 euro in contanti. Adesso sono in corso indagini per individuare gli altri due complici. Esplode la polemica a Borgetto, niente buoni libro per le famiglie a ventidirito, la denuncia di alcuni consiglieri comunali che sollecitano adesso l'amministrazione comunale a reperire le somme in bilancio. Bloccati i buoni libro a Borgetto a darne notizie in un'interrogazione, i consiglieri Giuseppe Barbaro e Erasmo De Luga del gruppo di Solidarietà e Libertà, i quali si chiedono quali provvedimenti intende prendere il sindaco per eliminare l'inconveniente. Gli stessi chiedono inoltre che venga convocato un tavolo tecnico tra i sottoscritti, il dirigente scolastico, i gestori delle librerie e la presenza di una delegazione di genitori per trovare una soluzione per risolvere il caso. Qualora nel capitolo non vi siano più fondi, si legge, le suggeriamo in fase di assestamento di trovare le somme necessarie. Queste sono scelte che suo malgrado bisogna fare. La povera gente attende e gradirebbe risposte immediate e concrete. Suggeriamo per tentare di ovviare all'inconveniente, si legge ancora, concedere qualche contributo in meta ad associazioni o enti e favorire la povera gente. E dal Consiglio Comunale di Borgetto ci spostiamo a quello di Balestrate, un Consiglio Comunale che si chiede venga messo in diretta web ma esplode la bufera. Ancora nessuna revisione del regolamento e l'opposizione spinge per la discussione della tematica all'interno del civico consesso. C'è chi vuole le telecamere dentro il Consiglio Comunale a richiederle la coalizione di opposizione del Movimento Spazio Comune a Balestrate. Prima è arrivato il due di picchia del sindaco Totomilazzo che ha parlato dell'impossibilità di avviare le videoriprese perché non previste nel regolamento comunale. Ora si torna alla carica. I consiglieri di minoranza tornano a chiedere con forza che la discussione sulle riprese del lavoro e del civico consesso approdi all'interno dei lavori del Consiglio, con relativo inserimento all'ordine del giorno. Monta la polemica ma sgonfiare il caso ci pensa il Presidente del Consiglio, Gino Danna. Sarà discusso tutto nella seduta convocata del prossimo 20 settembre. Ad avere acceso la miccia della polemica il responsabile di Spazio Comune Vito Rizzo che in una nota ha denunciato che sono passati oltre 100 giorni dalla richiesta di modifica del regolamento del Consiglio Comunale presentata dai consiglieri Guido De Amicis, Giuseppe Gimenti, Giuseppe Lombardo, Luca Muscolino e Marina Saputo. Il loro obiettivo è quello di favorire la partecipazione democratica alla vita politico-amministrativa per consentire a cittadini, associazioni e soggetti giuridici che abbiano ovviamente i requisiti di legge di riprendere le sedute del Consiglio Comunale. Chiediamo al Sindaco, dichiara Vito Rizzo, responsabile di Spazio Comune, di farsi portavoce presso la sua maggioranza in Consiglio Comunale affinché la proposta venga inserita immediatamente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio parla chiaro. Le richieste presentate anche da un solo consigliere devono essere inserite nella prima riunione utile. Sono stati convocati già tre consigli dalla data di presentazione della richiesta, conclude Rizzo, e ancora non vi è traccia della proposta di modifica al regolamento. L'opposizione ha battuto con determinazione quindi i pugni sul tavolo, appellandosi al rispetto delle regole che determinano i lavori del civico consesso. Il Presidente del Consiglio Comunale, Gino Danna, ha però smontato il caso. Mi sono direttamente messo in contatto con il Sindaco Totomilazzo, precisa Danna, il quale mi ha fatto notare che la discussione di questa mozione di Spazio Comune è stata inserita per il Consiglio del prossimo 20 settembre. Tali richieste passano ovviamente dagli uffici comunali e danno dei tempi burocratici ben precisi da rispettare. Già la Presidenza del Consiglio, al suo insediamento nel giugno scorso, aveva annunciato che avrebbe calendarizzato delle apposte riunioni per stabilire l'eventuale revisione o meno dei vari regolamenti comunali. E cambiamo totalmente l'argomento, andiamo a Partinico, torna potabile l'acqua della sorgente Mirto, l'ok del Sindaco in un'ordinanza dopo i prelievi fatti dall'ASP di Palermo, rientrati nella norma i parametri. Vediamo i particolari nel servizio. Fine dei disagi alla sorgente Mirto di Partinico. Proprio oggi il Sindaco Salvo Lobiundo ha emanato un'ordinanza che dispone il ritorno alla potabilità dell'acqua che sgorga dalla fontana e dai rubinetti delle case allacciate alla rete idrica. Il primo cittadino ha dato l'ok dopo aver revisionato i risultati dei prelievi effettuati dall'azienda sanitaria di Palermo, dall'ufficio preposto del distretto 41 di Partinico. I tecnici hanno evidenziato nella loro relazione, in base ai risultati di laboratorio, che sono rientrati nella norma i parametri relativi alla solubrità dell'acqua. Era dallo scorso 29 agosto che alla sorgente di Mirto era stato posto il divieto di potabilità, allorquando sono stati trovati fuori dal limite consentito gli indici di enterococchi intestinali, coliformi totali ed escherichia poli, tutti i batteri che possono essere in certe concentrazioni infettivi per l'organismo umano. La sorgente di Mirto serve una vasta area periferica della città ed in particolare le contradi Mirto Ernamo, con tutte le loro ramificazioni. A questa fontana si approvvigionano molti partinicesi per utilizzare l'acqua per uso idropotabile. Da qui sarebbero scaturiti essenzialmente disagi più forti. Quando il Comune scoprì dai valori fuori tabella, intimò ad APS, la Società Acqua e Potabili, addirittura di interrompere l'erogazione, lasciando a secco le abitazioni e la fontana. Un atto necessario, secondo l'amministrazione comunale e anche gli uffici, per via del rischio della salute per i cittadini. Da questo provvedimento però ne scatui una polemica proprio con gli uffici della PS, i quali, all'atto del divieto imposto dal Comune, dissero che il provvedimento era inutile in quanto il problema era stato immediatamente superato, in quanto riconducibile ad un piccolo guasto tecnico subito superato. L'acqua comunque, seppur sempre con il divieto di potabilità, è tornata a sgorgare già dalla scorsa settimana in seguito ai primi prelievi che erano stati fatti da PS, la quale ha comunicato la salubrità dell'acqua. Per avere l'ok anche alla potabilità serviva necessariamente però il prelievo dell'azienda sanitaria, con relativo parere che è arrivato oggi. Nella stessa ordinanza è il primo cittadino intima alla società acqua e potabili di adottare tutti i provvedimenti atti alla necessaria salvaguardia della fonte idrica, attenzionare alla colorazione delle acque in distribuzione ed effettuare i controlli previsti secondo legge nei vari punti della distribuzione. Ancora la cronaca, RB 24 anni, tunisino, domiciliato a Santa Croce di Camerina in provincia di Lagusa, è stato fermato a Palermo dai carabinieri del nucleo radio mobile con un chilo di Ashish, è arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. L'arresto del Corriere è il frutto di una perfetta sinergia tra attività informativa e controllo del territorio. Dipendenti della GESIP, Società di Servizi del Comune di Palermo, ancora in strada, da 17 giorni senza lavoro né stipendio, hanno organizzato un nuovo presidio in piazza Pretoria, davanti alla sede del municipio. Prosegue la mobilitazione, attendiamo l'esito dell'incontro a Roma, al tavolo interministeriale, dice Salvo Barone, del sindacato autonomo Asia. In gioco non solo i 5 milioni per pagare all'espettanza del mese dei 1.805 operai, ma anche il via libera al piano di riordino delle partecipate. Tra le proposte i prepensionamenti in deroga che consentirebbero 2.000 esodi. Nei giorni scorsi la protesta dei dipendenti della GESIP aveva paralizzato la città provocando disagio al traffico. In seguito ai disordini è stato arrestato uno dei manifestanti e altri due sono stati denunciati. Parliamo di mafia. Il pentito Spatuzza deporrà al processo Mori, lo ha deciso il Tribunale di Palermo dopo un'ora di Camera di Consiglio. Vediamo il servizio. Il pentito di mafia palermitano Gaspare Spatuzza, che si è autoaccusato di avere compiuto decine di omicidi, deporrà il prossimo 5 ottobre al processo al generale Mario Mori e al colonnello Mario Obbino. Entrambi accusati di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra per la mancata cattura del boss provenzano nel 1993. Lo ha deciso dopo una Camera di Consiglio al Presidente della Quarta Sezione del Tribunale, Mario Fontana, che ha accolto la richiesta avanzata dai PM Antonio Ingroia e Nino Di Matteo e dall'Avvocato Basilio Miglio. Era stato lo stesso Presidente della Quarta Sezione del Tribunale a sollecitare nell'ultima udienza le parti a sentire Patuzza. Il collaboratore verrà ascoltato per raccontare quanto avrebbe appreso dai fratelli mafiosi Giuseppe e Filippo Garriano sugli attentati mafiosi di Roma, Firenze e Milano e sull'attentato fallito da alcuni carabinieri allo Stadio Olimpico nel 1993. Accolta infine la richiesta di sentire il colonnello Antonello Angeli sulla perquisizione avvenuta il 17 febbraio del 2005 nell'abitazione di Massimo Ciancimino alla Daura e nel corso della quale non sarebbe stato sequestrato il cosiddetto papello con le richieste di Cosa Nostra allo Stato per fare terminare la strategia staggista. Fu un sotto ufficiale dei carabinieri Saverio Masi a raccontare in aula che il suo superiore, cioè Angeli, il papello non fu toccato nonostante fosse stato rinvenuto perché dai superiori arrivò l'ordine di non procedere al sequestro. Anche Angeli verrà ascoltato il 5 ottobre. Ammesse anche le deposizioni dei magistrati Gioacchino Natoli, Fausto Cardella e Tito Di Maggio, fratello di Francesco Di Maggio, ex vice del DAP. Sono 47, apriamo con la politica regionale, i contrassegni dei partiti e delle formazioni politiche depositati presso l'ufficio elettorale dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Il termine ultimo per il deposito dei simboli è scaduto alle 16 di ieri. Sino a domani, alle 19.30, i contrassegni presentati sono visionabili all'ufficio elettorale in Via Trinacri a Palermo da parte di tutti i rappresentanti di partito e gruppi politici che entro il 18 settembre alle 19.30 possono segnalare all'assessorato eventuali identità e confondibilità dei contrassegni presentati. A Partinico si scaldano i motori proprio per le elezioni regionali. È stata presentata ufficialmente la candidatura di Vincenzo Di Trapani, attuale consigliere provinciale. Aggiorni l'uscita ufficiale anche dell'altro partinicese, totogovernante anche lui, nel listino dei berlusconiani. Dopo l'Udc anche il PDL a Partinico cala la sua strana coppia. Anche nei berlusconiani si materializza quella che appare evidentemente un'anomalia, cioè due candidati della stessa città di provincia che per l'appunto si candidano per conquistare uno scranno all'Ars. Lo aveva fatto lo scudo crociato che è sceso in campo con Agostino Genova e Denzo Briganò. Replica ora il PDL con Totogovernanti, ex consigliere e assessore comunale, e Vincenzo Di Trapani, consigliere provinciale uscente. Nessuna anomalia, ribatte il commissario cittadino del PDL Totò Rizzo Puleo. Siamo di fronte ad una forza politica notevole che ha risorse importanti da spendere. Governanti a giorni ufficializzerà la candidatura, ma è stata già resa ufficiale dal coordinamento locale del PDL, mentre Di Trapani ha fatto la sua prima uscita ufficiale già ieri nella sala conferenza del Baglio Racali di Partinico. Si tratta di una candidatura maturata all'interno di Generazione 30, la corrente PDLina che raggruppa i giovani amministratori siciliani. Di Trapani, come sempre, non le ha mandate a dire puntando il dito contro il governo regionale e il suo presidente dimissionario, Raffaele Lombardo, non risparmiando neanche la magistratura. E' nel nome di un autonomismo, di facciata, ha fatto solo clientele. E la magistratura italiana, anzi la magistratura siciliana, è rimasta guardata. Forse perché uno degli assessori era l'ex segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati di Sezione Sicilia. Allora, se la magistratura deve fare politica e se la magistratura non è più quella che fa il buono col segnino, anche questa magistratura va pagliata. In tale contesto, il candidato all'Arsa ha presentato un fitto programma politico-amministrativo. Tra i punti più importanti, la revisione del piano rifiuti, la razionalizzazione dell'offerta formativa, politiche di sostegno all'imprenditoria sana e il riordino del testo unico del turismo siciliano in tema di sprechi di Trapani. Ha parlato in particolare della tanto contestata tabella H. Il PDL siciliano non candiderà alle prossime elezioni regionali politici rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Lo ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa il gota siciliano del partito Berlusconi e non solo. Incandidabili anche coloro che sono stati condannati in primo grado per reati di criminalità di tipo mafioso o riconducibili, dice il commissario PDL di Palermo, la senatrice Simona Vicari, ad organizzazioni criminali, finanziamento illecito dei partiti politici, scambio elettorale politico, smaltimento illecito di rifiuti, corruzione, usura, ricettazione e frode nelle pubbliche forniture. L'osservatorio per lo sviluppo e la legalità Giuseppe Lafranca di Partinico interviene sul problema della delocalizzazione della distilleria Bertolino ponendo degli interrogativi all'amministrazione comunale. Sono trascorsi 66 giorni dall'approvazione del protocollo d'intesa, si legge in un comunicato, per la delocalizzazione della distilleria Bertolino da parte del Consiglio Comunale di Partinico. Tale protocollo d'intesa prevedeva, si legge ancora al primo punto, la seguente dicitura. La distilleria Bertolino si obbliga a presentare al Comune di Partinico, entro 60 giorni dall'intervenuta approvazione del presente protocollo d'intesa da parte del Consiglio Comunale, il progetto di massima del nuovo stabilimento industriale con i titoli di disponibilità dell'aria. L'osservatorio per lo sviluppo e la legalità Giuseppe Lafranca di Partinico, si legge nel comunicato, ha partecipato attivamente nei mesi scorsi al dibattito sulla delocalizzazione della distilleria Bertolino, mediante incontri con l'amministrazione comunale, con varie associazioni e partiti del territorio, partecipando a dibattiti e convegni pubblici e anche alle varie sedute del Consiglio Comunale. Adesso quindi si ritiene lecito porre, si legge ancora a chi di competenza, le seguenti domande. La distilleria Bertolino ha provveduto a depositare il progetto di massima del nuovo impianto, unitamente ai titoli di disponibilità dell'aria. Se la risposta è affermativa, si legge, perché tale progetto non è stato ancora portato a conoscenza della cittadina. Se la risposta invece è negativa, perché la distilleria non ha ancora ottemperato agli obblighi del protocollo d'intesa. Restiamo in attesa, si legge, delle risposte in modo da poter riaprire il dibattito pubblico e poter effettuare eventuali contraddeduzioni, conclude il comunicato. La quinta edizione della Notte Bianca a Partiningo è stata definita un successo dai promotori ed in particolare dai commercianti. Quest'anno il lavoro di squadra e la presenza inedita della figura del direttore artistico Luca Luzzo avrebbe fatto la differenza. Secondo un primo sondaggio fra gli iscritti, sottolinea il presidente della Confcommercio Giuseppe Speciale, i commercianti locali hanno registrato ottimi guadagni, approfittando degli sconti per attrarre i potenziali clienti. Questo evento ha regalato una boccata d'ossigeno all'imprenditoria locale che ha voluto scommettere con convinzione sulla riuscita della Notte Bianca. Per il vice sindaco Sergio Bonni, se non ci fosse stata la pioggia a scoraggiare anche da Palermo, le presenze sarebbero state maggiori. Gli afflussi dall'Interland sono comunque stati consistenti e ci riteniamo soddisfatti per la partecipazione e soprattutto per l'alto livello dell'iniziativa. Molti imprenditori locali ci hanno creduto investendo risorse assieme all'amministrazione, le attività produttive, conclude Bonni, non chiedono assistenzialismo ma il coinvolgimento nella creazione di eventi attrattivi per rilanciare l'economia. A proposito della Notte Bianca si può innanzitutto dire che secondo il commissariato di Polizia ci sarebbero state 30.000 presenze. Boom di vendita, come dicevamo negli esercizi commerciali, ma vediamo com'è andata. Dopo rinvie e difficoltà, anche Partinico, sabato scorso, ha vissuto la sua Notte Bianca. Sbandieratori, musica, canti, cabaret, degustazioni, legalità in piazza, spettacoli vari. Questo quanto è successo dal pomeriggio di sabato fino all'alba durante la famosa Notte Bianca. I partinicesi, amanti delle feste popolari, si sono riversati in piazza e finalmente tutti gli angoli della nostra città hanno visto assieme adulti, giovani, bambini, cattolici e musulmani. I nuvoloni neri che impedivano di contare le stelle hanno fatto venire un po' di tremarella agli amministratori, ivi compresi il sindaco, che per scaramanzia mostrava con orgoglio il suo mini ombrello. Siccome quando ero in macchina pioveva, ho preso l'ombello e non piove più, lo porterò in giro tutta la sera, almeno speriamo che non piova. E' una bella serata e c'è da apprezzare tante cose, le luci, le iniziative che ci sono, la gente che c'è stasera ha risposto con le difficoltà meteorologiche che ci sono state in questi giorni, e anche della tragica morte di una cittadina partinicese che ha colpito fortemente Partinico. Questa è la notte dei risultati? I numeri parlano da soli, tantissima gente, un'affluenza pazzesca, anche per quanto riguarda la logistica sta andando davvero bene, gli orari vengono rispettati dagli artisti, la gente sta rispondendo in maniera eclatante. E' apprezzabile lo sforzo dell'amministrazione Lobbiundo e del direttore artistico Luca Luzzo, ma il tutto non può esaurirsi in una notte, è opportuno attivare un percorso che vada verso la rivalutazione dei quartieri e dei monumenti storici, con l'obiettivo di incentivare il turismo conosciuto solo come termine nella nostra cittadina. Ma torniamo alla notte bianca, soddisfatti gli amministratori, che vestiti a festa andavano giù e su per raccogliere consensi, strette di mano, è il più fortunato anche abbracci e baci. Soddisfatti anche noi, a dire il vero ci siamo divertiti e girando qua e là abbiamo pure noi raccolto consensi e dediche. Cosa ne pensi di questa notte bianca? Bella, una bella festa, mi sta piacendo, ci sono tante persone, tante cose da vedere, molte sagre, carina come festa, mi sta piacendo. Di solito di sera, alle 9, a Partenico non c'è più nessuno, quindi? Quindi, niente, peccato che non è stata abbastanza movimentata con quest'estate, però ci stiamo rifacendo con questa notte bianca. Carino, simpatico, intelligente e anche bravo, Lello De Tinturia, che fra una battuta e un'altra, ha lanciato messaggi politici e appelli di civiltà e poi, durante l'intervista, ha pure promesso che tralascerà Mediaset per TV7. Comunque, scherzi a parte, è stata una bella serata e una coinvolgente nottata. Stasera a Partenico per la notte bianca. È un grande onore, è un piagere per me venire a Partenico. Ho visto che c'è una serata bellissima, la gente si diverte, partecipa, nonostante il tempo è un po' incerto, però la serata posso dire che vi è riuscita molto bene. Adesso un saluto ai telespettatori di TV7. Un saluto a tutti i telespettatori di TV7. E io, Lello, fino a quando non vedo Canale 5, vedo sempre TV7. Grazie a tutti. Canteismo durante l'estate. Da giugno ad agosto, oltre a 3.000 giornate di lavoro perse in più rispetto all'anno scorso. L'amministrazione furiosa, vengono inviate le prime visite fiscali. Due dipendenti addirittura sono stati licenziati. Alla Regione Sicilia succede che i dipendenti continuano ad ammalarsi sempre di più. Quest'estate poi si è registrato un vero e proprio boom di giornate non lavorate per malattia. 3.000 in più rispetto allo scorso anno. In valore assoluto i dati rilevati dall'assessorato alla funzione pubblica parlano chiaro. Tra giugno e agosto i regionali hanno accumulato circa 41.500 giorni di essenze per malattie retribuite e non retribuite rispetto alle 38.100 del 2011. Un incremento che vanifica la progressiva riduzione che si era registrata fino ai primi mesi dell'anno grazie a diversi interventi dell'esecutivo regionale che aveva persino prolungato le ore durante le quali i dipendenti hanno l'obbligo di attendere a casa la visita fiscale. L'invio del medico però si paga così come un prezzo anno alle assenze per malattia calcolate mediamente in 114,80 euro a giornata. Calcolatrice alla mano ogni mese le assenze costano alla regione oltre un milione di euro mentre l'incremento in estate costato 300.000 euro. A cosa è dovuto questo boom di malattie non è dato sapere. I sindacati fanno muro e si schierano in difesa del personale mentre dagli uffici parlano anzi di una riduzione delle assenze rispetto al numero di dipendenti. Se a luglio ogni impiegato si è assentato complessivamente due giorni, nel 2011 furono 1,9 ad agosto la media è scesa 1,6 giorni, nel 2011 furono 1,7 ma anche qui la situazione è controversa. Il numero di dipendenti sui quali è effettuato il monitoraggio per le assenze non è costante. Nonostante il personale regionale oscilli tra i 16.000 dichiarati dalla regione e i 21.000 complessivi calcolati dalla Corte dei Conti I dati sulle assenze pubblicate sul sito della regione sono calcolati su 12-15.000 dipendenti. Il dirigente del personale Giovanni Bologna spiega che talvolta la colpa è dei ritardi nelle comunicazioni da parte degli uffici. Il motivo delle assenze? Difficile dirlo, dice. Di certo inviamo sempre le visite fiscali che accertano la reale malattia dell'impiegato. Forse anche colpa dell'età media dei dipendenti si è innalzata. A rendere facile la vita agli assenteisti sono pure i privilegi previsti. Nel contratto dei regionali, se in Sicilia gli impiegati di Palazzo d'Orleans hanno a disposizione 45 giorni all'anno per assentarsi, ricevendo comunque la retribuzione. In caso ad esempio di lutti, matrimoni o motivi familiari, a livello nazionale i permessi retribuiti sono ben vincolati tra matrimonio, 15 giorni, partecipazione a concorsi o esami, massimo 8 giorni all'anno e motivi personali, 3 giorni all'anno. La pagina dello sport, parliamo di calcio. A Palermo attesa per il nuovo tecnico Gasperini, nominato dopo l'esonero di San Nino. è atteso proprio per domani, in coincidenza con l'inizio tra l'altro del ritiro del Palermo a Milano e per Gasperini sarà anche l'occasione di fare il suo primo allenamento. Sentiamo il servizio. San Nino può perdere anche altre due gare di fila, non sarebbe in ogni caso a rischio. Così Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, si era espresso alla vigilia del match contro il Cagliari finito 1-1. Invece non è bastato nemmeno il pareggio a San Nino per evitare l'ennesimo esonero del vulcanico Patron. Al suo posto è stato chiamato l'ex Inter Giampiero Gasperini, che sarà presentato domani alla stampa a Milano. San Nino non credeva nella squadra e la squadra non credeva in lui, era troppo distante dai giocatori, non è riuscito ad intergarsi ed ero preoccupato perché ho notato un'involuzione, ha detto Zamparini a Radio Radio, spiegando la sua decisione. Non è stato certamente il risultato di sabato a determinare l'esonero. Non si è sintonizzato neanche all'1% con la squadra, infatti mi hanno fatto notare che dopo il gol, il primo in campionato, nessuno è andato da lui e in genere in questi momenti di tensione accade questo. In panchina arriva Gasperini. Lo avevo già contattato prima che andasse all'Inter, prima di prendere Pioli, il candidato era lui. Lo conosco da tempo, è un allenatore che ha un buon curriculum e che ha fatto bene dove è andato. Gioco un buon calcio e lo ritengo adatto per il Palermo. E ancora, questa operazione costerà al Palermo un milione e mezzo di perdita. Ho fatto un errore clamoroso con Sannino, un errore propiziato dalla conoscenza che aveva Perinetti che con lui ha lavorato a Siena dove ha fatto molto bene. Credevo moltissimo in lui, non avrei mai pensato di esonerarlo, ma tutti hanno visto il Palermo in queste tre gare. È sempre meglio esonerare un allenatore che andare in B e perdere 40 milioni. Nonostante le belle parole spese pochi giorni prima dell'ultima partita, Zamparini dunque ha deciso ancora una volta di cambiare la guida tecnica della sua squadra. Via Sannino dentro Gasperini con annessa rivoluzione tattica. Troppo poco, un solo punto in tre partite per far mantenere la calma al vulcanico presidente. Poco importa che il gol di Sao nel 1-1 con Cagliari fosse arrivato solo nel finale di partita. Il primo esonero stagionale anche quest'anno ha le forti tinta rosa-nero, ma dalle parti del Barbera ormai ci sono abituati. Continuiamo con lo sport. Successo tutto palermitano ai campionati mondiali 2012 di kickboxing. Waco per cadetti e juniors che si sono tenuti a Bratislava. La sedicenne Elena Pantaleo del team Haikia, allenata da Gianpaolo Calaio alla sua prima esperienza nazionale, ha conquistato il tetto del mondo nella specialità semi-contact, categoria juniors 60, al termine di un incontro molto combattuto con un'atleta polacca conclusasi al minuto supplementare con il punteggio di 18 a 14. Prima della concorrente polacca Elena Pantaleo aveva battuto un'atleta ungherese, un'americana e una belga. Il palermitano Roberto Guiducci, 18 anni, sempre del team Haikia, già campione regionale europeo Juniors 2011, ha conseguito con ampio vantaggio sul suo antagonista sudafricano la medaglia d'oro sempre nella specialità semi-contact, categoria Juniors 89. Antonella Esposito del team palermitano Cobra Team ha conseguito la medaglia d'argento nella categoria Juniors 65. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di TV7 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto e per i prossimi appuntamenti e vi ricordo che le notizie del TG possono essere anche visionate